buongiorno e buon anno vi leggo una poesia tratta dalla mia raccolta poetica l'ora del sole medio di antonella rizzo edita dai quaderni del bardo di stefano donno che trovate su amazon qui dal salento dalla casa del padre dove una madre una donna presidia l'amore odio e noi che andiamo senza origine di verbo di là dal fiume diamo assedio alle ombre qualcuno è venuto dall'altra parte dove le rive si uniscono in trincee e le soste non fanno pane prendiamo le case e le teste bruciamo ai denti e i cani e i tappeti buoni di storia ogni cosa qui è nulla due proiettili nella tasca fanno odio e per quello che sappiamo da questa parte del fiume nulla fa più differenza che sia pace tra gli innocenti finalmente vi aspetto se vorrete sabato 20 gennaio al centro internazionale di quartiere a milano per la presentazione milanese della mia raccolta all'ora del sole medio edita dai quaderni del bardo io sono antonella rizzo facciamo poesia facciamo pace grazie grazie a tutti grazie a tutti